Nel corso della serata di giovedì abbiamo avuto la possibilità di assistere all'evento organizzato da Samsung per la presentazione del nuovo Samsung Galaxy S3. Il design della nuova soluzione è molto semplice e riprende in parte le linee dell'ultimo Galaxy Nexus, con il quale ha in comune gli angoli molto arrotondati e la posizione della fotocamera nella parte posteriore. Lo spessore è di 8,4 mm, non certo un record ma comunque una misura contenuta. La scheda tecnica della nuova soluzione Samsung prevede un processore Exynos 4 Quad, quad core di produzione della stessa Samsung, operante alla frequenza massima di 1,4 GHz, al quale si aggiunge 1 GB di memoria RAM e 16, 32 o 64 GB di memoria dedicata allo storage, a seconda del modello che si intende acquistare. Il display in dot e misura 4,8 pollici, offre una risoluzione di 1280x720 pixel e si avvale della tecnologia super a molle da HD. La fotocamera con cui è stato equipaggiato il nuovo Galaxy offre un sensore ancora una volta da 8 megapixel. Le novità, questa volta, risiedono infatti nel software di gestione della stessa fotocamera, software che permette ora di fotografare in modalità scatto continua, rendendo possibile scattare fino a 20 fotografie in modalità raffica, delle quali il terminale può scegliere le migliore 8 grazie alla funzionalità Best Photo. Sempre in ambito software non possiamo non segnalare la presenza del nuovo strumento Pop-up Play, una funzione che permette di riprodurre un video in qualsiasi punto dello schermo e di interagire con il terminale continuando a riprodurre il video nella posizione scelta, senza dover quindi mettere in pausa lo stesso per poter accedere ad altre funzioni. Molto interessante è anche l'introduzione dello strumento S-Voice, un software di riconoscimento vocale molto simile al concorrente Siri di Apple, che permette, come quest'ultimo, di interagire con il terminale utilizzando la propria voce. Utile poi la soluzione Smart Stay, che individua la presenza dell'utente di fronte al terminale e mantiene il display attivo fino a che lo stesso utente non distoglie lo sguardo. Le prime impressioni sono quelle di un ottimo terminale che, tuttavia, non porta a nessuna innovazione davvero eclatante. In sostanza, infatti, il nuovo Galaxy S3 raccoglie in un unico terminale tutte le funzioni innovative introdotte dai produttori concorrenti nei mesi passati, raggruppandole in un unico device. Una soluzione che potrebbe sicuramente rivelarsi comunque vincente, anche visto la grande attesa, creatasi negli ultimi tempi intorno a questo terminale. Galaxy S3 sarà disponibile in Italia a partire dalla fine del mese di maggio, in due differenti colorazioni, pebble blue e marble white, a un prezzo ancora sconosciuto ma che secondo noi potrebbe girarsi intorno ai 699 euro per la soluzione con il taglio di memoria più basso.